Ciao ragazzi e benvenuti nella seczione del nostro sito. Le nostre aeroplane, sia in versione retrattive o in una versione fixata, hanno in realtà la stessa struttura, ma ovviamente con alcune modificazioni piccole necessarie per l'installazione dei sistemi diversi. Il kit, in qualsiasi tre versioni, Basic, Advanced e QBK, include tutto necessario per completare l'aerframe a più costo per l'amateur builder, e sarà composto di fuselage, wing, empennage, flight controls, gear fixata, canopy, tank fuel, e elementi di fibroglas. A questo, potete anche aggiungere una serie di opzioni per customizzare il vostro aeroplane, che sono listati nella seczione di order a kit. È anche importante menzionare che potete order a kit in componenti separate, quindi dovete avere tutto il tempo per costruirlo a vostro pace, step-by-step e in modo costo effettivo. Il nostro kit busy, che è totalmente disassemblato, è approvato FAA per l'experimentale amature build certificazione. Ma con il nostro programma di assistenza, potete facilmente portarlo a passaggiare diversi passaggi. Inoltre, potete anche trovare diversi video tutoriali su come assemblare i vari elementi dell'aerframe in nostro sito. Voglio raccontare che ci stavamo alla sicurezza dei nostri piloti. Inoltre, ci sono diversi elementi dell'aerframe, dei elementi che sono subito aiutati, come le ruote, le ruote, le ruote, le fuselage e le montate di motore, sono l'intensità di corpus, ed è guidato con il cromo di stile per assicurare la sicurezza della sicurezza di chi avviene il nostro aeroplane. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti